Non è per via della gloria che siamo andati in montagna a far la guerra. Di guerra eravamo stanchi, di patria anche. Avevamo bisogno di dire, lasciateci le mani libere, i piedi, gli occhi, le orecchie. Lasciateci dormire nel fienile con una ragazza. Per questo abbiamo sparato. Ci siamo fatti impiccare. Siamo andati al macello col cuore che piangeva, con le labbra tremanti. Ma anche così sapevamo che di fronte a un boia di fascista, noi eravamo persone e loro marionette.